Dentro le pagine di un libro ti aspetta un mondo magico Forse qui lo troverai Che cosa? Il libro che cerchi sempre E se avessi il potere di far vivere un libro In card Semplicemente leggendolo ad alta voce Dita di polvere La tua voce gli ha fatti uscire dal libro E se uno dei libri che hai fatto vivere Voglio metterti in guardia Devi stare più attento Ti portasse in un altro mondo? È come l'illustrazione del libro Nelle segrete Rinchiudeteli Unicorno Signi volanti Che posto è questo? Vi aiuterò a tornare a casa E come vuoi farci scappare? La grande tempesta Ora per tornare a casa Devono scappare dal libro Incard La leggenda di cuore d'inchiostro Approxival